Adesso c'era la neve, il fumo sa rivalendo, nel freddo, giorno d'inverno, e adesso sono Mentre risuonano le note della memoria e del dolore, la pala passa di mano in mano, di storia in storia, di sguardo in sguardo, affinché tutti i ragazzi possano partecipare alla piantumazione di un ulivo nel neonato e simbolico giardino messo a disposizione dal comune di Bustarsizio, nel parco di Villa Tovaglieri. Un'iniziativa degli istituti superiori ACO, Fogga e Fiorini, il comune ha messo a disposizione quest'area e loro creeranno a step il Giardino dei Giusti. Non solo memoria, ma radici profonde in un passato che deve illuminare il presente e migliorare il futuro, a partire da chi quel futuro ha il compito di costruirlo. Oltretutto la simbologia dell'ulivo ci riporta alla residenza, alla forza, alla pace, alla riflessione. Come dice la frase di Primo Levi, a volte comprendere è impossibile, ma ricordare è necessario. Ed è proprio per quello che abbiamo scelto di commemorare in questo modo questa giornata nei nostri istituti, cercando di essere rappresentati dai nostri ragazzi che hanno lavorato insieme a noi a questo progetto e che hanno goduto di questa esperienza. Grazie a tutti!